Sono andato a calo pesato, non c'è la linea, adesso sto facendo ancora un'altra volta la fila per prelevare e è sempre così in questa posta, è una cosa che è divenuta insostenibile, il servizio non esiste proprio per niente. L'erbo non interessa, però i servizi che non interessano. Il servizio non è buono perché c'è troppo tempo, ogni volta che viene qua c'è quasi una giornata. Ma non ci sono i servizi, non conviene proprio... Adesso c'è un conto a banca e qui lo vado a ritirare e lo metto in banca perché la posta non funziona. La situazione come potete vedere è veramente inaccettabile perché c'è una condizione di degrado inaccettabile nel 2023. Qui ci sono soltanto due operatori invece che tre e quindi le file sono interminabili. C'è un ATM dal 2007 che non viene sostituito ed è malfunzionante. Questo comporta delle file lunghissime e addirittura molti anziani mi lamentano il fatto che essendo un ATM vecchio i colori non si vedono, i numeri non si vedono e quindi c'è anche difficoltà ad effettuare i prelievi o i versamenti. Qui da due anni sto chiedendo attraverso delle pecca, attraverso degli articoli di giornale, attraverso dei solleciti al direttore di filiale, al responsabile territoriale, un intervento almeno per avere un terzo operatore, per avere un ATM nuovo, se non addirittura la richiesta dell'apertura pomeridiana. Poste Italiane non garantisce purtroppo un servizio adeguato ai cittadini di Mirto e ai cittadini di Crozia e questo personalmente da rappresentante di questo territorio non lo posso accettare. La nostra 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 Grazie a tutti.